Allora, le fiere abbiamo allestito dei moduli, secondo lo schema regionale, abbiamo dei moduli composti da sei ambulatori, all'interno di ogni ambulatorio ci sono due operatori sanitari, un medico e un infermere e in questo modo riusciamo ad avere circa mille vaccinazioni al giorno. Poi stiamo allestendo un secondo modulo sempre da sei e anche ne è previsto un terzo perché vorremmo arrivare pronti anche alla fase in cui la vaccinazione è rivolta alla popolazione generale.